Il Napoli di Mazzarri e quello di Benitez. Si stanno preparando i giocatori azzurri, la cresta azzurra diventata azzurra di Amsic. Il capitano del Napoli è pronto ed alza la Coppa! Il Napoli trionfa nella 66esima edizione della Coppa Italia Team Cup. Abbattuto in finale lo stadio olimpico di Roma da Fiorentina per 3-1. Una Fiorentina sconfitta ma a testa alta. È il trionfo del Napoli, una serata per certi aspetti surreale che rimarrà purtroppo indimenticabile per questo ritardo di 45 minuti. Ma adesso è il momento della festa del Napoli. Ora non pensiamo alla cronaca nera, ai ferimenti che hanno sfregiato le ore della vigilia. e con ripercussioni le lunghe e delicate valutazioni qui allo stadio olimpico alla fine della decisione di giocare. La partita si è svolta e l'ha vinta il Napoli che ha sigillato il successo con un gol segnato in 10 contro 11 in zona recupero con il subentrato Mertens. Aveva preferito Insigne Benitez, è stato ripagato con una doppietta ma Mertens dalla macchina a sua volta ha lasciato il segno.